Ada Smith è molto importante per un motivo ormai banale e risaputo, nel senso che è ritenuto il padre dell'economia politica. In realtà questo è il suo merito principale, nel senso che è il primo pensatore che sistematizza in un trattato che ha tutte le caratteristiche dell'opera scientifica, i principi generali dell'economia politica. Però Ada Smith non era un economista, era prima di tutto un filosofo, poi magari ne parliamo un po', la sua prima opera fu la teoria dei sentimenti morali. Il suo interesse era l'interesse sull'azione umana e quindi essendo questo il suo interesse anche l'azione economica era al centro della sua attenzione. e naturalmente non ha avuto un pensiero completamente originale, nel senso che anche lui ha derivazioni che provengono da David Hume. David Hume pur aveva scritto pagine importanti sul commercio, naturalmente è di grande derivazione aristotelica, fa parte della corrente cosiddetta dell'illuminismo scozzese. Però detto ciò, nel senso che nessuno nasce in un vuoto anche dal punto di vista intellettuale, sicuramente Ada Smith è quello che per primo fa sì che si ragioni sull'economia in termini del tutto diversi da come si era ragionato fino a quel momento. Poi ne accenniamo un attimo, ma fino a quel momento si era in qualche modo prigionieri della teoria mercantilista per la quale l'accumulare oro era ciò che interessava alla nazione e che quindi più oro si accumulava e meglio era, mentre invece Ada Smith, in questo preceduto da Hume, ribalta completamente questa cosa, l'esempio peraltro storico della Spagna che aveva manipulato tanto oro e argento dalle sue colonie e che però era un paese impoverito era tipico, ribalta questo e dice che non è l'accumulare oro la cosa importante, ma è il libero scambio in modo che ciascuno riesca a specializzarsi come meglio può e da questa teoria del libero scambio discende poi tutta un'altra serie di principi e postulati che ne fanno per l'appunto il padre dell'economia politica.